La donna e l'indio è spesso chiamata Debbie, Dea o Mata, Madre. Il rosso è l'ornamento delle donne che la vita la danno. Il rosso vermiglio della polvere di cuncum, in mezzo alla testa delle giovani spose. Il rosso del bimbi, il punto al centro della fronte. I rossi arabeschi del nè, il rosso carminio dei sari inuziali. Nel Gujarat, durante la festività che celebra la vittoria del bene sul male, infatti è proprio una dea a sconfiggere il demone nel giorno di Dusserra. Durga, colei che uccide i demoni. Le nove notti precedenti la battaglia vengono dedicate alle nove idee, ognuna per sonificazione della Shakti, la potenza femminile. Grazie mille. Grazie mille. A presto A presto A presto A presto A presto A presto